Ben trovati amici del Centro Mito Italiano, un maltempo in arrivo specie al centro nord d'Italia dove sono attesi acquazioni e temporali localmente anche a carattere di nubi fragili tra giovedì 7 e venerdì 8 giugno. La distribuzione dei fenomeni più intensi dipenderà strettamente dall'esatta traiettoria della perturbazione, la quale risulta ancora incerta. Stando a quattro fatto vedere questa mattina dalle ultime uscite dei modelli, quindi il maltempo dovrebbe iniziare a far sentire i suoi effetti sulle regioni centrali a partire dalla serata di giovedì, mentre venerdì anche il nord sarà interessato da forte precipitazioni. Le regioni più colpite dovrebbero essere in particolare Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Emilia Romagna e Sardegna. Seguite comunque tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Mito Italiano!